Sto tirando adesso. Sto tirando. Eh sì, sto tirando adesso. Eh sì, vai, vado con una mano. Siamo in tre. Non c'è mai che sto tirando, ciao. Ma come? Spuglio il telefono. Guarda, il nostro sentaggio di potenza, vedi com'è? È un po' basso. Tanto arrivano le luci. Sì, se arrivo leggermente dopo, meglio. Ma noi arriviamo giù più velocemente, hai capito? Mi tiene i 1.500, 1.600, 1.700. Perfetto. Ho 75 nodi che lo leggo lì con la 7. Wow, legginzi! Bravissima. Un po' più di motore, vedi? Si sta frusciando un po'. Cinture allacciate. Cinture allacciate, affermo. Si è andato a tre bianche, eh. Bravo. Ho vinto fino un po' da sinistra. A, G. Voglio il motore. Un po' più affino. Alla sinistra. Alla sinistra. E a destra. Sinistra. C'è il letto che viene da...